Buon pomeriggio, possiamo iniziare questo incontro dedicato all'editoria natale e soprattutto dedicato a uno dei testi più recenti usciti nella colonna Nativitas intitolato Gli angeli di Raffaello di Marco Carminati. Ma prima vorrei presentare il caso editoriale di questa collana, che è una collana molto particolare, che ha delle caratteristiche relative proprio alla fattura del libro. Si tratta infatti di una collana la cui originalità sta innanzitutto nel fatto di essere dedicata esclusivamente al tema del Natale, che è l'unica collana in Europa su questa tematica, e ha degli elementi materiali molto particolari perché sono frutto di una ricerca, quindi stiamo parlando del paratesto. Faccio riferimento alla carta, che è una carta naturale, certificata, molto curata, delle cartiere Fedrigoni di Fabriano. L'inchiostro utilizzato per la copertina è un inchiostro con delle parti dorate e la sovracoperta è sempre con un titolo in oro a caldo. Poi i caratteri al loro interno sono i caratteri classici della saggistica dell'editoria italiana, quindi i caratteri Simoncini Garamond, con il titolo che invece è in un altro carattere classico che è il Times. Il formato è un formato tascabile con una copertina che ha un'immagine di sottofondo grigio e ricorda, sia nel formato che nell'idea di copertina, la prima Burr, la mitica prima Burr del 1949, con quel grigio che, come diceva Manganelli, era fatto per non invecchiare e che voleva mantenere una sua sobrietà, ma al tempo stesso anche una sua eleganza. Poi ci sono degli elementi immateriali che sono rappresentati dalle sezioni di questa collana, che sono la letteratura, quindi il Natale declinato nella narrativa piuttosto che l'arte, come nel caso che vediamo oggi, oppure la spiritualità, contesti di grandi personaggi della cultura religiosa internazionale, una sezione dedicata alle tradizioni, alla cultura e poi una sezione dedicata alla saggistica. Quindi è un variegato panorama dove troviamo i classici come vikens, come il sarto di Gloucester, di Beatrix Potter, ma troviamo anche le ricette dell'Artusi, troviamo le pubblicità di Natale che hanno fatto epoca, come possiamo trovare i testi di Papa Francesco. Quest'anno, oltre a una riproposta del Longseller della collana, che è Natale in poesia, con la presentazione di Luciano Erba, quest'anno le novità sono, oltre agli angeli di Raffaello, sono poi un'opera dedicata ai segreti di un dolce per tutte le feste, il panettone, un testo sui gialli di Natale, una raccolta di gialli di Natale, da Conan Doyle a Larry Quinn a Rex Tau, ma soprattutto è il numero 100 della collana, un ode giovanile inedita di Erasmo da Rotterdam, tradotta da Carlo Carena, grande classicista e inaudiano, e poi naturalmente gli angeli di Raffaello. Ne è autore Marco Carminati, critico d'arte, si è laureato in storia dell'arte mediovale moderna, giornalista professionista, autore di molti libri. Vi cito almeno uno che mi è molto piaciuto, tra l'altro anche molto narrativo, ricco di aneddoti, il Davide in carrozza, le avventure di viaggio delle opere d'arte dagli obelischi egizi al boom delle mostre, edito da Longanesi, ma poi diversi altri, pensiamo a Leonardo, la Giocondo, oppure il recente Raffaello pugnalato, tutti editi dal Sole 24 ore, dove Marco Carminati è responsabile dell'inserto culturale della Domenica. Ecco, sulla quarta di copertina degli angeli di Raffaello c'è una frase di Renoir, ero andato a vedere quel quadro per spassarmela, ed ecco che mi trovo davanti alla pittura più libera, più salda, più meravigliosamente semplice e viva che si è dato ad immaginare. In questa luce, questo libro svela un aspetto particolare dell'artista, e lo fa proprio nel cinquecentesimo anniversario di Sanzio. I segreti, cioè, dei suoi celebri angeli, che molti, a cominciare da quelli che vediamo adesso, ritengono un quadro a sé stante, ma in realtà sono un particolare di un'opera artistica più grande, una delle opere più importanti del Rinascimento. Ma sarà Marco Carminati a raccontarci tutto questo e a lui la parola, ringraziandolo della presenza con noi oggi. Ringrazio il professor Roberto Cicala per questo invito e anche per l'invito alla sollecita, alla realizzazione di questo piccolo libro che mi ha dato però l'opportunità di imparare tante cose. La scrittura dei libri è sempre occasione per chi li fa, anche di approfondire, verificare. Nel mio caso ho fatto un bel ripasso di che cos'è l'angiologia, che era una disciplina molto presente e molto seguita nel Medioevo, poi mano a mano si è un po' dissolta e il racconto di questo libro parte appunto intanto dalla collana, la nativitas. Lì c'è stato un attimo di perplessità perché Raffaello curiosamente non ha dipinto praticamente mai, se non in un solo caso, delle natività. Anzi, in un solo caso per adesso noto e non un'opera di grandi dimensioni ma un dettaglio, una predella della Palaotti. Da questo quadro si è un po' partiti per cercare di capire dove Raffaello ha realizzato gli angeli, come li ha realizzati, in che contesto, con che significati. E di nuovo un piccolo stop perché nella famosa natività, unico quadro di Raffaello dove c'è appunto la scena della nascita di Gesù, la possiamo probabilmente anche vedere, la presenza degli angeli non c'è, non esistono angeli. Noi sappiamo invece che gli angeli erano e come presenti in queste scene, ma Raffaello non li ha inseriti. Allora, come partire, come inserire questo elemento? Ma c'era un elemento che era lì ad aspettarci in modo molto molto palese e evidente, che il giorno della nativitas di Raffaello, cioè il 6 di aprile del 1483, il giovane Raffaello era nato a Urbino, da una famiglia piuttosto abbiente. Il padre Giovanni Santi era un uomo di corte, della corte dei Montefeltro, faceva l'artista ma faceva anche il poeta, cioè era proprio uno dei principali attori della corte e in questa occasione, nella giorno della nativitas appunto di Raffaello, decidono di dargli il nome di un arcangelo. Quindi Raffaello ha il nome di uno dei più potenti angeli, anzi di uno degli arcangeli, l'arcangelo Raffaele, al quale è demandata la nostra protezione e la nostra salute. Ecco, questo è stato un po' l'incipite del lavoro, il lavoro che poi ho dovuto in qualche modo organizzare perché c'erano ovviamente dei limiti editoriali che sono la caratteristica, diciamo, una delle caratteristiche specifiche di questa collana. Non sono libri mai molto vasti perché hanno proprio la caratteristica di essere dei manuali, dei manuali, dei piccoli libri da tenere in mano con questo formato molto gradevole. E poi organizzare il lavoro perché chiaramente Raffaello non ha fatto la nativitas ma gli angeli, davvero ne ha fatti tantissimi, li ha inseriti in tutte le grandi opere sia su tavola che i grandi cicli di affreschi, ha dato loro significato sacro ma anche significato profano, quindi andava organizzata in qualche modo una materia abbastanza vasta. Chiaramente sarebbe stato un po' noioso ripercorrere cronologicamente il percorso di Raffaello e parlare degli angeli e man mano che le opere si facevano presenti, ho pensato fosse meglio dividere in tre parti questa ricerca. Le tre parti sono così definite, diciamo che la prima parte è dedicata proprio agli angeli che ci sono nella copertina del libro e sono appunto due dettagli, anzi un piccolo dettaglio di una pala molto grande che oggi si trova a Dresda ma che era stata concepita da Raffaello Sanzio per la chiesa di San Sisto a Piacenza, don del suo nome celebre di Madonna Sistina. Un'opera che venne fatta a Roma, spedita in modo rocambolesco fino a Piacenza e conservata fino alla metà del Settecento nell'altare della chiesa di San Sisto appunto a Piacenza e poi venduta dai monaci benedettini all'elettore di Sassonia che in un viaggio ulteriormente rocambolesco se l'è portata fino a Dresda. A Dresda quest'opera, che forse potremo vedere tra poco nelle immagini, era considerata un capolavoro assoluto, arrivata nel Settecento quando si comincia ad avere i primi sentori della cultura neoclassica. In quel periodo lavorava Winkelmann come bibliotecario nella corte dell'elettore di Sassonia. Eccolo qui, il nostro quadro e il dettaglio che come vedete è semplicemente il dettaglio che sta al piede della composizione, due piccoli putti, poi vi spiegherò bene il significato di questi due angioletti che quasi annoiati guardano con degli atteggiamenti molto comuni, le braccia conserte e la testa appoggiata al mento. Una scena invece di un'importanza straordinaria, cioè una teofania, la Madonna che si rivela, aperte le tende, vedete quelle tende verdi che si aprono. Tra l'altro le pali d'altare avevano tutte le tende davanti, oggi noi nelle chiese non ne vediamo praticamente più, ma erano tutte protette o da tende o da ante, cosa che si è perduta nel tempo. Quindi questo era anche un troble, un inganno dell'occhio, quindi Maria appare ovviamente sulle nuvole e porta il bambino tra i Santi Sisto, che è il Papa, che vedete sulla sinistra, e Barbara dall'altra parte. Questa immagine celeste è resa ancora più vera e più attuale e più vivida dal fatto che ci sono due angeli che possono anche essere due putti, due amorini, cioè venire dalla tradizione classica. Allora Raffaello in tutta la sua carriera, vivendo lui nei primi anni, nella fine del 400, inizio del 500, ha a disposizione tutta la gamma degli angeli che si sono accumulati a partire dal Medioevo, anzi dall'Alto Medioevo, addirittura dal periodo paleocristiano. Gli angeli vennero raffigurati, almeno nel contesto cristiano, dapprima come personaggi. Erano dei messaggeri, quindi non avevano né le ali, né tantomeno né erano nudi. E ci sono iconografie molto antiche che li raffigurano così. Intorno al V secolo spuntano le ali. Le ali in realtà sono un retaggio classico, vengono prese dalla Vittoria Alata, da questa tipologia classica. Tra l'altro la Lombardia possiede a Brescia una statua meravigliosa rimasta intatta della Vittoria Alata. Ed ecco che si immagina appunto gli angeli abitatori del cielo, perché volano, perché sono nell'aria. Da questa idea nasce anche l'idea che viene suffragata addirittura da commenti molto autorevoli, per esempio da Sant'Omaso d'Aquino, che gli angeli avessero la consistenza delle nuvole, cioè che fossero aria a quale però è data la possibilità per volere divino di condensarsi e prendere l'aspetto di nuvole. Ed ecco che se voi aguzzate la vista e guardate tutta la parte nebulosa di questo quadro, bene, avvicinandoci nei dettagli ci accorgeremo che sono tutte teste di angeli. Le nuvole sono fatte dagli angeli, quindi gli angeli in carne ed ossa, anzi piuttosto grassottelli che ci sono in primo piano, che derivano dalla tradizione classica, e invece questi angeli eterei fatti di aria, che sono una tipica espressione della cultura medievale. Questa composizione, quando arrivò a Dresda, fece subito scalpore, perché potete immaginare un quadro così classico, in un momento in cui si sta preparando la cultura neoclassica, diventa un punto di riferimento e per molto tempo si guarda soprattutto alla parte centrale del quadro. Ecco qui vediamo il giovane Raffaello, alla parte centrale del dipinto, cioè la Madonna col bambino, quella bellissima composizione, che viene riprodotta, ritagliata, copiata, eccetera, eccetera. Paradossalmente, a un certo punto, ma siamo alla fine dell'Ottocento, solo il dettaglio dei due angioletti, che prima nessuno pare aver osservato con grande trasporto, attenzione, viene estrappolato, decontestualizzato, da che cosa? Da una singolare ditta che faceva degli insaccati, eccola qua, questo fu l'inizio, diciamo, di una travolgente decontestualizzazione del particolare, fino a far dimenticare che quel particolare fa parte di un quadro più grande. E cominciarono questi paradossali giochi su questi due angioletti e sono andati a finire nella mercelogia di tutti i tipi, da quelle medagliette della prima comunione alle saponette, ai gadget da museo, la conosciamo in tutte le varianti possibili e immaginabili, manifesti, eccetera, e da lì sono diventati oggettivamente gli angeli più famosi di tutta la storia dell'arte. Quindi gli angeli di Raffaello, questi due angeli di Raffaello hanno preso questo grande primato. E questa è un po' la prima parte che ho voluto dedicare agli angeli di Raffaello, mettendo in evidenza questo singolare caso di celebrità, però, diciamo, scaturita da fatti e dettagli che con l'angeologia e con la pittura in generale di Raffaello c'entrano qua. Questa è proprio la fortuna di questa composizione. In realtà Raffaello in tutta la carriera, come vi dicevo, ha la possibilità di toccare con mano tutte quante le tipologie che dal Medioevo fino al suo tempo vengono messe a disposizione dagli artisti. Allora, vi dicevo, nel Medioevo gli angeli erano vestiti, ecco questo è molto importante, abbigliati. Per un po' di tempo, poco, compaiono senzali. Raffaello naturalmente attinge la tradizione degli angeli abbigliati con le ali. Come potete vedere in questo dettaglio della disputa del sacramento che si trova nella stanza della segnatura in Vaticano, dove c'è tutta quanta la tipologia degli angeli a disposizione. In alto, dove c'è il Dio Padre e la Deesis, cioè Cristo con la Maria e con la Madre e San Giovanni il Battista, c'è in una raggio, una specie di raggio di sole, che è tutto intarsiato di angeli, che sono angeli eterei, che hanno la consistenza della luce del sole. Poi c'è ancora un anello di angeli nuvolosi, ma potete vedere anche nel dettaglio di destra, ci sono anche degli angeli in carne ed ossa, vestiti, volanti, con le vesti svolazzanti. Ecco, il tema delle vesti è un tema importante, adesso lo affronterò, ma vorrei farvi notare un altro dettaglio. Sotto Cristo, sotto la parte celeste di questo quadro, che vedete è definita da una sorta di nuvola a semicerchio, anche questa qui piena zeppa di angeli, ci sono quattro angeli al centro, accanto alla colomba dello Spirito Santo, che sono angeli in carne ed ossa. Sono addirittura angeli della tradizione classica, sono gli amorini, gli eroti, come li chiamavano. Erano figure che comparivano nei sarcofagi antichi ed erano il simbolo, appunto, da un lato della sessualità, ma anche della vita e quindi nel mondo pagano venivano tirati fuori anche nelle situazioni finali della vita, quindi andavano a comparire nei sarcofagi come simbolo di vita. Il 400 umanista riprende questa iconografia, che è una grafia, ripeto, pagana, classica, e la assume nel grande concerto degli angeli cristiani. Per cui quei quattro angeli li reggono dei libri e i libri sono gli incipiti dei quattro angeli. Gli angeli in alto sono vestiti, abbiamo visto anche qui, ecco, questo dettaglio ci può servire anche per questo discorso, questa è una risurrezione che si trova al Museo di San Paolo del Brasile e dall'altra parte c'è la cosiddetta Palamonde, che oggi si trova alla National Gallery di Londra, ma veniva da Città di Castello. Ecco, in questo caso vediamo gli angeli che sono presenti, assistono Cristo nella risurrezione da un lato, Cristo nell'agonia dall'altro, addirittura uno degli angeli raccoglie il sangue con il calice che sta uscendo dal costato di Cristo. Vedete che sono abbigliati. Per molto tempo, nel Medioevo in particolare, gli angeli erano abbigliati con le vesti liturgiche, perché erano assimilati a ministri di Dio, in effetti lo sono nell'angeologia. Gli angeli sono divisi in grandi categorie, in tre grandi categorie, che si chiamano cori, e le categorie si dividono appunto in Cherubini, Serafini e Troni, cioè i più vicini all'Altissimo. Poi c'è una tipologia di potestà eccetera eccetera che sta al centro e poi ci sono i veri e propri arcangeli ed angeli che sono quelli più vicini a noi e che vengono in contatto con l'umanità. Ecco, queste figure erano tutte abbigliate e per molti secoli nel Medioevo vestite come dei sacerdoti. Nel periodo di Raffaello questa distinzione si perde. Gli angeli vestiti sono vestiti tutti allo stesso modo, hanno un vestito molto particolare, più o meno simile, anche se i colori e le fogge sembrano diverse, ma diciamo che la tipologia del vestito è simile e si chiamava il guarnello. È un tipo di vestito che era celebre, conosciuto anche da Boccaccio che ne parla tranquillamente, tipicamente medievale, aveva le caratteristiche di grande semplicità, era unisex, poteva essere vestito dagli uomini e dalle donne. Questo è un dettaglio non secondario perché noi non sappiamo esattamente qual è il sesso degli angeli finché non arrivano gli eroti pagani. Quello invece si riconosce la caratteristica maschile, ma per tutto il Medioevo sul sesso degli angeli, come sapete, si discute ma non si arriva a conclusione. L'abito è questo guarnello, questo guarnello era il simbolo di una sorta di grande semplicità, veniva vestito dalle persone più semplici, ha una caratteristica che quando gli angeli sono in volo è simile allo stesso abito che indossava la vittoria alata di tradizione pagana. Quindi gli angeli vengono vestiti e si deve con il vestito accentuare il fatto che arrivino dal cielo. Ecco, questo è uno degli aspetti che Raffaello prende dall'antichità ma che inserisce molto bene all'interno del suo percorso. Come vi dicevo, a un certo punto, vedete, gli angeli vengono attinti dalla tradizione pagana. Questa è la grande Madonna del Baldacchino che si trova a Palazzo Pitti, nella galleria palatina di Palazzo Pitti. Qui ci sono le due tipologie degli angeli. Gli assistenti, quelli in volo, che come vedete sono vestiti ancora una volta non più da abiti liturgici ma dal famoso guarnello e sotto invece i due piccoli erotti di tradizione pagana che in questo caso cantano. La caratteristica del cantare è una delle attività più diffuse da quelle degli angeli. Perché nel libro ho appunto voluto dividere la materia in tre parti. La prima parte è la fortuna, diciamo, degli angeli di Dresda, gli angeli più famosi della storia dell'arte. Al centro ho voluto mettere in evidenza come si presentano gli angeli, con che tipologia. Quindi dalle nuvole agli angeli vestiti, agli angeli nudi. Nella parte finale ci sono le attività che anche Raffaello registra in modo molto importante fatte dagli angeli. Gli angeli assistono innanzitutto Dio padre, assistono a parte che hanno il compito fondamentale dell'annunciazione. L'arcangelo Gabriele è il primo attore che entra nella storia cristiana come annunciatore. Poi ci sono appunto quelli che assistono alla crocefessione e poi quelli che dopo aiuteranno anche l'umanità, aiuteranno i santi. In questo caso l'episodio celeberrimo di un angelo che peraltro è perfettamente vestito in un guarnello. Rosita Levi Piseschi, grandissima storica della moda, riconosceva questi dettagli a vista perché conosceva talmente bene gli abiti e su questo caso proprio indicò il guarnello come abito dell'angelo che viene a liberare Pietro dal carcere in un dettaglio degli affreschi delle stanze vaticane, la stanza degli odoro, dove c'è questo episodio tra l'altro bellissimo di notturno che viene replicato anche sul lato perché l'angelo si vede anche fuori dalla prigione quando sta portando fuori. Ecco, queste sono le attività degli angeli che sono in contatto con Dio ma sono anche in contatto con gli uomini. Gli angeli possono essere fari di tutto, anche le azioni più violente come potete vedere nell'arcangelo Michele che colpisce come un soldato. Quindi per metà sono vestiti con le armature, se guardate nei dettagli, soprattutto la parte bassa dell'abito, i calzari, le armi in mano, le spade, ecco, sono degli angeli tra virgolette militanti e questo è uno degli aspetti che più mi ha colpito perché in effetti si passa veramente dalle figure angeliche che si dissolvono nell'armonia celeste cantando a dei militari che stanno agendo in questo caso nella lotta contro il male. Un caso particolare è dato da questo dipinto, c'è l'Eberrimo, la Madonna di Foligno che tra l'altro ha anche nella base la predella monocroma che dopo vedremo nei dettagli perché anche lì è tutta piena di angeli, pieni di attività, ma la pala ha la caratteristica di avere molto in evidenza nella parte alta la Vergine Maria che appare su un sole, appare circonfusa nel sole, ma intorno al sole ci sono le nuvole, se guardate bene lo si vede anche da qui molto semplicemente, piene zeppe di angeli che si agitano, quindi le nuvole fatte degli angeli. Lo dice Sant'Omaso nella Summa che spiega in modo abbastanza chiaro che appunto la volontà di Dio fa sì che quest'aria si rapprenda e prenda la forma degli angeli, poi quando la volontà di Dio vuole diversamente gli angeli si dissolvono e tra l'altro giustifica il fatto del numero altissimo degli angeli, quanti sono gli angeli, lo sappiamo innumerevoli e per dare questa idea diventano nuvole. Oppure nella parte bassa c'è del dipinto, è come vedete un amorino pagano, maschio perché è nudo e si nota il sesso, con le ali, che tiene in mano una cosa molto molto pagana, la tavola ansata. Questa tavola vuota era presente nei sarcofagi classici, nei sarcofagi paleocristiani e qui sono state fatte molte congetture per cercare di capire che cosa significasse in questo contesto. Diciamo che il contesto è o che la pala sia un ex voto perché il committente, che è questo signore qua, che era il segretario di Giulio II, aveva avuto un incidente grave, un meteorito aveva colpito la sua casa e lui era riuscito ad uscirne indenne, quindi che lì ci sia un angelo che regge la tavola dell'esvoto è una delle ipotesi, oppure appunto che si trattasse di una tavola di carattere funebre, il committente come vedete non è in gran salute, lo si vede molto bene, probabilmente quel volto lì è stato tratto dalla maschera funebre, come spesso si faceva, si calcava il volto del defunto, poi gli artisti lavoravano su queste cose qui ed ecco che probabilmente quello era il nome, cioè il significato funebre perché gli angeli con in mano la tabu lansata erano tipicamente angeli presenti nei sarcofagi antichi. Ecco, nella predella che vedete dall'altra parte ci sono un sacco di angeli in attività, dove c'è le tre virtù, la carità in alto, scusate, la fides in alto, scusate, la speranza in alto, ci sono gli angeli in atteggiamento orante, la carità, gli angeli che portano beni, beni materiali e beni spirituali e poi la fede con due angeli con la tabu lansata, vedete ancora quella tavoletta in mano, però hanno, in questo caso, di fianco alla fede, che è la donna che tiene in mano il calice con l'ostia, c'è il monogramma di Cristo, sia in latino che in greco. È curioso perché in greco è sbagliato, vedete, Lafalo non lo conosceva bene e si è fatto mal consigliare. Ecco, queste sono le tipologie degli angeli, diciamo così, al lavoro, come le ho definiti io. Quali sono le attività degli angeli? Vediamo qualche altra immagine. Per esempio, in questo caso, una celeberrima lunetta, sempre negli affreschi delle stanze vaticane, gli angeli sono al lavoro, nel senso che gli angioletti che intravedete lì rappresentano la fede che solleva in alto, poi c'è l'angelo che tiene la fiaccola, poi c'è l'angelo che tira giù l'albero che non è altro che un rovere, è l'albero araldico della famiglia della rovere, quindi abbassa e c'è la caritas perché dalla rovere scendono le ghiande e quindi c'è il benessere e poi ci sono le virtù, le varie virtù che sono raffigurate dalle donne. Angeli preparati, come vedete da Raffaello, come se fossero i protagonisti, non dei dettagli, lo vediamo dei meravigliosi disegni preparatori che si conservano soprattutto nelle collezioni anglosassone e inglesi, in questo caso era per la cappella Chigi di Santa Maria della Pace, che vedete nell'immagine di là, per la fascia alta dove si mette in evidenza uno dei ruoli, ecco vedete dei bellissimi dettagli che il libro riporta nelle tavole e in alto vedete la fascia dove si vedono le sibille antiche che hanno le profezie, ma chi gliele dà le profezie? Chi gliele porta le profezie? Eh, gliele portano gli angeli, sono gli angeli che in varie fogge attraverso dei cartigli oppure delle tavole di marmo spiegano a queste donne le profezie dell'arrivo del Messia, secondo la tradizione non è che poi l'arte cristiana ha ripreso la grande, pensate alla volta della cappella Sestina. Qui abbiamo, diciamo così, un aspetto conclusivo del libro, diciamo che sappiamo che gli angeli erano divisi nella ripartizione medievale in cori, non è una parola a caso, gli angeli hanno una caratteristica, quella di cantare, soprattutto quelli che stanno al vertice, cioè i cherubini, i serafini e i trono, sono angeli che cantano e cantano in modo senza fine il santo, santo del Trisagion. E questo aspetto musicale, diciamo così, degli angeli, Raffaello lo sapeva bene, lo conosceva bene, lo vedete nella assunzione della Vergine, nella parte della Vergine che si trova circondata da angeli, tra l'altro che suonano degli strumenti musicali e lì vengono in aiuto i salmi che spesso elencano con grande precisione i cembalo, datelo col cembalo, datelo con l'arpa, tutti questi strumenti musicali non sono a caso, se si riesce a identificare bene il punto, il passaggio del salmo, si ha l'elenco esatto negli angeli che vedete nella pala di sinistra. La pala di destra è una pala estremamente musicale anche perché è dedicata alla patrona della musica. È una delle opere che Raffaello spedì al nord, diciamo, rispetto a Roma, la prima l'avevamo vista, era andata a Piacenza, questa era l'altra più lontana da Roma, si trovava a Bologna e si trova ancora oggi a Bologna, non nella sede originaria che era una chiesa ma nella pinacoteca della città. È l'estasi di Santa Cecilia. L'estasi di Santa Cecilia che è un dettaglio dove c'è, ecco magari torniamo un momento, c'è il dettaglio della Santa che per un errore di interpretazione della sua passio che diceva che era stata passata per organa, cioè era stata torturata attraverso quella parola organa diventa lo strumento musicale per cui lei diventa la patrona della musica e spesso è raffigurata mentre suona l'organo. In quel caso lì c'è un piccolo organo positivo di quelli piccoli che è uno strumento reale e che la Santa smette di suonare. Perché smette di suonare? Perché a un certo punto il cielo si squarcia e nella parte alta comincia a cantare la schiera degli angeli. Quindi non solo gli angeli sono dei suonatori come vediamo nella pala da questa parte ma sono dei cantori, vedete che hanno in mano a tre a tre come se cantassero in polifonia e quando arriva questa musica celestiale che porta l'estasi ogni musica umana sia fatta con le musiche ad archi, con gli strumenti ad archi, con gli strumenti a fiato, con l'organo che era uno strumento molto elaborato e complicato già in antico, bene tutta questa musica cessa perché quella che sovrasta è l'estasi della musica celestiale. Quindi un rapporto tra musica divina e musica umana che è stato molto studiato in questo dipinto dove chiaramente gli angeli vincono questo certame perché quella particolare in alto del cielo squarciato con gli angeli nella dorata cielo è il punto più importante del quadro e che mette appunto in secondo piano la musica che gli uomini si sono affannati a realizzare con i loro strumenti. E qui chiudiamo questo racconto queste figure di angeli sono sempre studi preparatori per la cappella Chigi ma che ci dimostrano se appunto avevamo qualche dubbio che Raffaello dava una grande importanza alle figure degli angeli come lo poteva dare alle figure della Sacra Scrittura oppure a protagonisti dei quadri. Gli angeli avevano un grande ruolo anche per Raffaello e soprattutto per Raffaello. Bene, grazie per questo bel excursus che poi è una storia ricca di curiosità perché a cominciare dalla pubblicità degli insaccati adesso non voglio abbassare il livello alto e angelico però davvero una storia molto interessante di una bellezza straordinaria. Devo dire che è sempre più soddisfacente per riuscire a realizzare un libro che poi anche nella fase della realizzazione riesce a far emozionare come poi fa emozionare il lettore perché l'autore in questo caso riesce a scoprire sempre cose nuove perché su Raffaello nel cinquecentesimo sembra che tutto ormai sia stato detto ma qualche angolino in chiaro oscuro c'è ancora. Ringrazio Marco Carminati per la presentazione di questo bel incontro sperando di ritrovarci sulle pagine e nelle pagine non soltanto di questi angeli di Raffaello e alla prossima con gli auguri a tutti. Grazie, grazie mille a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.